Allora siamo in via San Lorenzo, alla periferia della città di Mesagni, così per caso, abbiamo incontrato un signore, eccolo qua, Angelo Saracino, 50 anni, che fa il rigattiere. Però, entrando, abbiamo visto la storia della nostra cultura, abbiamo visto la storia dei nostri nonni e bisnonni, come vivevano, diciamo, 50, 60, 70 anni fa, ma anche 100 anni fa, quando si dovevano, con le materie prime che ci dava la terra, la stoffa, il legno, il metallo, ci dovevano adattare e vivevano bene. Naturalmente poi sono arrivati i computer e tutte queste altre cose, che hanno, diciamo, non cancellato, però messo nel dimenticatoio questa cultura delle nostre tradizioni. Questa è una cucina a legna, anni 60. Anni 60. Anni 60, una doppia cucina. Spiegaci perché. Doppia cucina perché. Perché prima, diciamo, li facevano solo a legna. Sì. E quella a gas a parte. Sì. Allora, che hanno fatto? Hanno fatto due cucine in una. E come? Facci vedere. Allora, due cucine in una. Guarda, Giuseppe. Guarda, allora, questa è il primo piatto che si ha. Questa è quella, diciamo. Quella a legna. Quella a legna. Quella a legna. E questa qua è quella a gas. A gas. Probabilmente. Certo. Perché? E allora? Perché questo qua? Perché questo qua? Perché così la clientela, diciamo, no? Senza comprare due cucine. Una per l'estate e una per l'inverno. Perché l'estate quella a legna difficilmente la accende. Perché? Perché facevano molto caldo. Molto caldo. Quindi non potevi accendere la cucina a legna l'estate. In casa. Con una piazza del genere. Ah. 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 Perché la cucina a legna fa da cucina e anche da stufa. Ah. Ecco. L'uno e l'altro. L'uno e l'altro. Un viaggio e due servizi. Ecco. Ah. Ok. Allora cosa abbiamo fatto? Quindi questa l'estate era spenta. Era spenta. Quindi si dedicavano, si dedicavano su quella a gas, a fornelli. Non usando più quella a legna. Quindi la cucina. È meno calorosa, diciamo. Sì, sì. La cucina, diciamo, per ogni stagione. Questo per l'inverno e questo per l'estate. Per l'estate. Che poi, volendo, l'inverno puoi anche usare. Diciamo, però, perché la legna verrà messa da parte l'estate. Ok. Questo è, diciamo, il contenitore dove si riscaldava l'acqua. Eh sì. Dove si riscaldava, vedi? Inizioni. Angelo. Buonasera. Com'è che ti è arrivata questa idea, poi? Niente. Siccome parecchi anni fa lavoravo presso un'azienda, per motivi ovvi l'azienda purtroppo ha chiuso i battenti, e mi sono trovato senza lavoro. Mi sono trovato. Stando un po' in età, un po', diciamo, non giovanissima, ci siamo inventati io e mio fratello, diciamo, Salvatore, e qualcosa per tirare avanti, diciamo, per tirare avanti, fra virgolette. E abbiamo iniziato, 18-19 anni fa, con fare dei mercatini, con roba usata, dei mercatini nelle piazze, diciamo, no? Con poca roba, pochi oggetti antichi. Però adesso abbiamo visto, abbiamo anche filmato roba eccezionale, diciamo. Ma adesso, ma prima, non sapendo le prime armi, non sapevamo più o meno a cosa andavamo incontro, capito? Allora, quindi, passo dopo passo, passo dopo passo, ci siamo, diciamo, ci è piaciuta la cosa, siamo stati tenaci nel proseguire questa strada qua, e niente. Poi ti fai tutto da te, ti ho visto l'altro giorno. Sì, sì, tutto quello che hai visto, tutto quello che, quanto riguarda la vendita, la riparazione dei mobili, il restauro. Con materiali anche recuperati? Recuperati. Non materiali nuovi? No, 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 sono tutti materiali recuperati dagli svuoti che facciamo, delle case vecchie, diciamo. Tutti, ma, dei legnami che trovi, perché, essendo a Misagne un paese contadino, diciamo, che contadino, legname, ne trovi parecchio. Travi, assi, quant'altro, per, diciamo, recuperare, recuperare, restaurare quanto più originale possibile un tavolo o una dispensa o... Ma la cosa più bella che hai restaurato, Angelo, qual è stata, che è la cosa a cui ci tiene di più? Ma guarda, ne ho fatti... Molto, no, ma una in particolare. Ne ho fatti tanti in tutti questi anni, che poi il restauro mio comprende, non il restauro in sé per sé completo, restaurare una cosa, però lasciarla quanto più originale possibile, non modificarla, lasciare la storia, il vissuto sul pezzo. Sul pezzo. Sul pezzo, quindi usare legname sempre vecchio, diciamo, e quant'altro. Però la cosa più bella che ho restaurato, che io mi ho a mente, che mi ricordi, è stato un mobile, un Luigi Filippo, diciamo, un cassettone, un comò. Un Luigi Filippo, diciamo, dell'epoca proprio vecchia. Che è arrivato anche... Di noce, di noce. Di noce, sì. Che è arrivato anche, mi dicevi poc'anzi, un baule del... Sì, mi è capitata una storia. Ci sono anche le valigie di cartone con cui i nostri nonni e bisnonni... Sì, sì, mi capitò in uno svuoto di recuperare un baule, era fatto di cartone e metà di metallo, con tutte le etichette ancora appese sopra, il numero del posto del primo viaggio del transatlantico Saturni a Vulcania, quando fu varato nel 1929. Bene, quindi questa è la cultura che noi vorremmo che i nostri figli, i nostri nipoti riscoprissero, perché è la storia della nostra città, è la storia dei nostri avi, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, che, diciamo, dovrebbe essere anche insegnata, fatta vedere ai nostri ragazzi, perché di fianco alla storia, quella dei libri, di Napoleone, c'è anche la storia. E allora l'augurio è che comunque questo tesoro che sta qui dentro, e Angelo sarebbe disponibile, credo, venga visitato, venga visto dai nostri ragazzi, dalle ragazze delle nostre scuole, perché sappiano che quando non c'erano i computer, non c'erano i telefonini, non c'era internet, comunque i nostri nonni hanno vissuto e si sono adattati, lavorando sempre. Angelo, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, gentilissimi. Ciao. Ciao.